Nel tentativo di trovare un accordo sulla gestione dei flussi migratori, si fa strada tra i paesi europei l'idea di piattaforme di smistamento regionali al di fuori dell'Unione, centri in cui distinguere tra rifugiati e migranti economici destinati al rimpatrio. Su questa proposta, menzionata in un documento preparatorio del prossimo vertice europeo tra pelato e media, la Commissione europea tuttavia non ha ancora una posizione ufficiale. Non abbiamo mai rifiutato nulla a priori, ha affermato martedì il commissario europeo all'immigrazione, ma finora non abbiamo mai optato per questo piano. C'è un'idea, ma non si tratta di una proposta molto concreta. La crisi politica sull'immigrazione rischia di diventare una bomba a orologeria. Durante il loro incontro a Vienna, il cancelliere austriaco Sebastian Kurz, prossimo a guidare la presidenza del Consiglio europeo e il presidente del Parlamento europeo, hanno sottolineato la necessità di trovare una soluzione. L'immigrazione è il problema dei problemi. Su questa questione si gioca il futuro dell'Europa. Senza risposte concrete crescerà l'allarme sociale e, ripeto, sarà messa a repentaglio l'esistenza della stessa Unione europea. L'immigrazione sarà al centro del prossimo Consiglio europeo, dove si giocherà una partita decisiva per la riforma del sistema comune d'asilo. Paesi come l'Italia vorrebbero un sistema più equo di ripartizione dei rifugiati, un'idea che incontra opposizioni da est. Forretti Forretti 助